Dottor Popa torna a Dischia per una campagna di screening per la Sper, quindi ecocardiogramma gratuiti. Stiamo rifacendo una campagna di prevenzione sull'isola Dischia facendo l'ecografia al cuore, che è l'esame più importante tra quelli che si possono fare per il cuore, soprattutto in una campagna itinerante come la nostra. Allora, devo dire che siamo stati accolti molto bene, devo dire che la popolazione, le persone hanno accolto l'importanza di quello che facciamo e sta andando tutto molto bene, abbiamo tante prenotazioni e speriamo di continuare in questo modo. Da gennaio saremo a Forio e poi probabilmente anche su Ischia. Intanto siamo qua e continuiamo a fare la prevenzione. E l'associazione Sper da quanti anni è nata e quali obiettivi si prepone? Allora, l'associazione Sper, che si chiama per esteso Sper Verifica il cuore, è un'associazione nata per fare prevenzione. Abbiamo fatto diverse campagne, l'ultima è quella dell'anno scorso, itinerante che ha fatto il Giro d'Italia, ma siamo alla trentesima campagna perché ne abbiamo fatte diverse, alcune in Piemonte, alcune all'estero e facciamo prevenzione soprattutto facendo l'ecografia cardiaca perché per noi l'ecografia è l'esame più ricco di informazioni, è l'esame che ci dà più informazioni e alle persone, soprattutto quelli che hanno bisogno. Dunque è un'associazione che da circa nove anni fa prevenzione a tutto campo. E diciamo che la risposta qui su Ischia è stata ottima, c'è il tutto esaurito, fino a quando resterete? Qui a Laco Amo, a meno, restiamo fino alla fine della prossima settimana, al 6 dicembre, sull'isola penso fino alla fine di gennaio. Perfetto, quindi sarà ancora possibile prenotare? Assolutamente sì, c'è il codice QR che noi abbiamo fornito, è presente, si può usare per fare le prenotazioni. Ovviamente verranno attivate le altre date disponibili man mano che si va avanti. Dunque adesso siamo aperti e attivi sull'Aquameno, la prossima tappa sarà a Forio, grazie al sostegno dell'amministrazione di Forio e poi probabilmente andremo ad Ischia.